Durruti con amici qui sull'Appia Antica, ecco mostriamo Massimiliano, Massimiliano, Fulvio alla regia, siamo sulla Appia Antica dopo un pranzo sulla grande decadessa romana no, Ferruccio no, Ferruccio no, Ferruccio no, Ferruccio no, Ferruccio no Ferruccio chi? Ferruccio devoltre, Ferruccio no guarda ci stanno i buchi Guarda ci stanno i buchi, non lo puoi dire però. Parla francese, buon ristorante. Ristorante. Gagliano è un ginecogolo. C'è un po' sportivo. Non distraete il conduttore. I buchi. Non parlate al conducente. Non mi faccio distrarre però è più meglio della grande bellezza. Al centro che gli si dice... Madame, dica qualcosa. No, no, no. Pioraccio. No, facciamogli di qualcosa. Piano, piano, piano che vado. Madame, vai. Meno di così, queste figlie. Ma chi sei fredde? No. No. Ma no. Ma fango io. Guarda. Temorizzare. Mi provi a pagare lui. Ma dai, va, va, va. Basta con l'antica Roma. Dice hai rotto i coglioni, vai. No. Ma dice... L'antica Roma. Piazzate il popolo, ma aspetta. Le 5 doveva essere già lì da un quarto d'ora. Sti cazzi. Sì, appuntiamo via. Tele Durruti, una televisione monolocale. Siamo a Via Tor Carbone. Tor Carbone e veniamo ad essere stati a casa a registrare. Via Tor Carbone dell'amica Marisela Federici. Grazie Marisela per questo splendido pomeriggio che ci hai donato. Tele Durruti. Grazie a tutti.